Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea, una grande storia d'amore e di illusioni perdute. Una riflessione profonda sulle contraddizioni della borghesia progressista, sulle illusioni che possono sostenere o traviare le persone per tutta la vita. La trama del libro Ritorno in Puglia dello scrittore Marco Ferrante, pubblicato dalla casa editrice Bompiani, è la seguente. Bernardo Bleve ha un complesso rapporto con la sua terra, una Puglia rappresentata nella sua antica bellezza ma senza alcuna forma di retorica, con la sua famiglia, la moglie Elena, i figli Gelasio, che lavora a Londra nel mondo dell'alta finanza, Francesca e il giovane Pietro, e con l'azienda agricola che ha ereditato e che ha trasformato in una prospera impresa industriale di bevande. Tutti legami nei quali si mescolano idealismo e vanità, ipocrisia e desiderio di operare per un riscatto. Alla fine degli anni 90, quasi come sentisse il bisogno di riparare, attraverso il proprio impegno, ha un'immensa disgrazia. L'affondamento di una moto vedetta carica di profughi da parte di una nave da guerra italiana nelle acque di fronte a Brindisi, Bernardo accoglie una famiglia di albanesi. Sospesi tra un passato lasciato al di là del mare e il futuro che si apre in Italia per i loro figli. Gli albanesi portano con loro energie nuove ma al tempo stesso spezzano l'antico equilibrio. Tutti in questo romanzo, del resto, devono fare i conti con il tema della colpa, perché non sappiamo mai veramente quanto male abbiamo fatto agli altri. Anche quando eravamo mossi dalle migliori intenzioni. Con una scrittura morbida eppure estremamente precisa, capace di grandi campiture come dell'analisi spietata di singoli dettagli rivelatori. Marco Ferrante scrive un romanzo sugli slanci e le contraddizioni di una borghesia che si dichiara progressista ma che è animata dai moventi più inconfessabili. E sulle illusioni che possono sostenerci per una vita intera oppure farci imboccare la strada sbagliata. E da vita a una storia che si legge come una avvincente saga familiare ma ha la densità di una tragedia. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.